Vedere una partita ed analizzare tutte le giocate di un singolo elemento sul quale stilare una tesi. Questo è il compito che hanno avuto i 37 neopatentati al recente corso d'allenatore UEFA B. Ognuno ha scelto di esaminare giocatori affermati del calcio italiano e non solo, da Ronaldo a Insigne, Marchisio, Gagliardini, Falcao, Bonucci ed altri. Non sono stati però solo i calciatori professionisti ad attirare l'attenzione. Infatti l'aquilano Luca Frittella, ex tecnico del Poggio Picenze in terza categoria, ha driblato tutti decidendo di presentare la tesi sull'attaccante della Moronese Matteo Liberatore. Compito non facile perché un elemento locale è conosciuto molto di meno rispetto a un fuoriclasse di Serie A o Champions League, ma Luca Frittella con il suo Poggio Picenze aveva già avuto modo di apprezzare le doti del bomber della Moronese nella stagione 2015-2016 in terza categoria. Da qui la scelta di studiare le caratteristiche di Liberatore. Ho deciso questa cosa perché mi serviva innanzitutto vedere una partita dal vivo, poi io conoscevo il giocatore avendoci giocato contro. La gara oggetto della tesi è stata la sfida dei play-off di seconda categoria del 7 maggio scorso San Francesco Moronese vinta dalla squadra delle frazioni per 4-0 grazie alla tripletta di Liberatore. Io ho descritto Matteo Liberatore, un giocatore che sicuramente è la seconda categoria, ma anche la prima gli va stretta. Secondo me è un ottimo giocatore che allenato bene e con la testa giusta potrebbe tranquillamente fare categorie dalla promozione in su. La qualità migliore è il tiro e riuscire a capire dove è la palla prima degli avversari. Dopo la tesi su di lui, Luca Fritella spera un giorno di poterlo anche allenare. Magari, magari sì, sarebbe un giocatore che per qualsiasi allenatore farebbe comodo. Sì, mi piacerebbe un giorno allenarlo, se è possibile. Io sto all'Aquila, lui è sul Mona, sarà difficile, però non si sa mai nella vita.